Due persone entrambe di nazionalità albanese sono state arrestate dalla polizia con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di due diverse operazioni. Il primo, Jakub Hovsa, cinquantenne irregolare sul territorio nazionale, è stato fermato nei pressi della sua abitazione a Mestre ed è una vecchia conoscenza delle forze dell'ordine. È stato arrestato proprio il 7 novembre per detenzione di sostanze stupefacenti, l'altro giorno, cioè il primo dicembre, quando lo abbiamo arrestato è stato trovato invece con oltre 100 grammi di droga, è stato sequestrato il cellulare e una significativa somma di denaro provento dello spaccio. Sempre a Mestre e a poche ore dal primo arresto è stato fermato Alba Notai, 37enne, anche lui cittadino albanese. Durante un controllo, mentre stava alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto a perquisizione. Questa perquisizione personale ha consentito di rinvenire delle piccole dosi di droga. Essendo una new entry nelle attività dello spaccio, abbiamo deciso di fare una perquisizione anche al domicilio del soggetto, dove abbiamo trovato anche qui oltre 100 grammi di droga.